Ciro Borriello stasera all'inaugurazione della sede di Fratelli d'Italia, è ufficiale la sua candidatura a sindaco per le prossime amministrative a Torre del Greco? Io personalmente mi sono autocandidato, forte anche del sostegno di Luca e Salvatore Quirina, è chiaro che aspettiamo la parola definitiva da parte dei vertici provinciali e regionali. Posso dire che già ieri, ma credo che c'è una notizia pubblica, anche forse l'Italia è aderita alla mia candidatura. Quindi chi la sosterrà in particolare? Chiaramente ancora un cantiere in itinere, Fratelli d'Italia credo di sì, però aspettere ovviamente ai vertici provinciali e regionali l'ultima parola. Forza Italia mi hanno già confermato sia i vertici locali che i vertici regionali, nella persona di Fulvio Martuscelli in particolare, ed il senatore Silvestro. Sicuramente ci sarà come al solito la mia lista, come sapete c'è anche la lista dell'Udc, ci sono molte altre liste che si stanno avvicinando, in verità io vorrei non allargare troppo, vorrei una collezione quando più possibile, sapendo che è molto difficile, diciamo coesa almeno sugli obiettivi. Tre obiettivi cardine del suo programma politico? Beh, uno diciamo che è un po' fantasioso, ma credo che dobbiamo avere anche coraggio, visione e fantasia, creare a Torre del Greco un enorme centro storico, che comincia da Cesare Battista per arrivare fino a Piazza Lugipalomba e fino alla zona mare, con mega parcheggi, facendo l'esproprio a quella degli zoccolanti, facendo un accordo con la provincia per il nautico, quindi demolire l'IPA per trasformarlo in parcheggio, dietro alla farmacia La Guardia ci sta quel palazzo che fu demolito, anche là potrebbe finire un altro parcheggio, e unire Santissima Trinità con Ciccovallazione perché quello spazio intermedio è già, il proprietario è già deciso di darlo al comune, poi per le solite lungaggine l'atto non è ancora fatto, ma c'è la volontà del proprietario di regalarlo al comune. Tutti questi parcheggi dove non sono alberati, fare tantissimi impianti fotovoltaici. Oggi l'energia è un problema importante, io credo che i comuni si debbano accollare di questo problema e trovare le soluzioni. Questo sarebbe un modo per non spendere più soldi per la pubblica illuminazione, per il riscaldamento, per le scuole, per gli uffici pubblici, ma sarebbe anche un modo, come ha fatto già la città di Lisbona, nel caso che avessimo e potremmo sicuramente avere una produzione in eccesso, di alleggerire la bolletta dei meno abbienti e magari anche dell'attività commerciale per cercare di riferire il commercio che è poi la vita di ogni città. In tutta quest'ottica ho incontrato pochissimi, per adesso devo dire, commercianti, ma ho già lanciato a loro questa idea e a di fronte dell'ambiente tubanzi invece ho trovato una discreta apertura, perché ormai si è capito che non si può più competere con i centri commerciali. Una volta le attività commerciali stavano all'interno dei centri storici, ormai sono tutti quanti delocalizzati, quindi bisogna cercare di riportare l'economia al centro di tutto. Ovviamente bisognerà rifondare il comune, non ci sono più dipendenti, io credo che non c'è una visione. Una delle mie fortune, tra virgolette, della passata amministrazione, almeno lo ritengo quale, fu aver costruito un ufficio progetto. Una città come Torre del Greco, qualche città della Campania, che non ha un ufficio progetto, che non ha visione, infatti io temo che abbiamo perso almeno in gran parte il treno del PNRR, spero che ci sia ancora tempo di rimediare. Dopo l'ultima amministrazione, Borriello, com'è cambiata questa città? Questo lo lascio decidere ai cittadini, se oggi io sto ancora qui, ancora si parla del mio nome come eventuale candidato, perché probabilmente dopo di me c'è stato il vuoto.